La Piana di Gioia Tauro ha 33 comuni, circa il 70% delle amministrazioni comunali sono state sciolti almeno una volta per infiltrazione mafiosa. Questa è la prova che c'è una presenza molto forte dell'organizzazione criminale, che oramai la cultura mafiosa si è diffusa, quindi la si trova negli ambienti anche pubblici, quindi nella politica purtroppo. Per questo rende molto più difficile per noi il nostro operato, partiamo dal presupposto che questi terreni bene confiscati sono proprietà dei comuni.